Ciao a tutti e oggi vedremo come configurare un DNS molto veloce. Andiamo in pannello di controllo, rete e internet e poi su connessione di rete. Quindi clicchiamo col tasto destro e andiamo su proprietà, cerchiamo protocollo internet versione 4 tcp ipv4 e clicchiamo su proprietà. A questo punto andiamo a selezionare ottiene un indirizzo server DNS automaticamente e mettiamo la spunta utilizza i seguenti indirizzi server DNS, cioè quindi la seconda parte della tabella. Andiamo a mettere qua dei numeri, mettiamo 1111, nella seconda riga 1001, salviamo e a questo punto abbiamo messo un DNS velocissimo e super sicuro. Ricordo se vi è piaciuto questo video di mettere un mi piace e di iscriversi soprattutto al canale perché voglio raggiungere le 200 persone. Grazie a tutti.